Qual è il momento giusto per investire? Come faccio a sapere quando attendere e quando agire? Porniamo di aver preso una posizione sui mercati come e quando chiudo il mio trade. Scopriamolo subito! Ciao, sono Andrea Martella di G e in questo video vedremo come fare per entrare e uscire da una posizione. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi altri video come questi dove approfondiamo tecniche e strategie di trading e le nostre dirette, quotidiane e settimanali. Di recente abbiamo pubblicato un video dove abbiamo analizzato le 5 regole d'oro per fare trading con alta volatilità. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Oggi invece andremo a vedere come scegliere il momento per l'entrata e l'uscita sui mercati. E' essenziale non solo quando i mercati sono volatili ma anche per l'operatività quotidiana. Per prima cosa individuiamo il trend principale. Andremo a investire solamente seguendo la tendenza. In particolare cercheremo di comprare sui ritracciamenti del trend in modo da poterlo seguire ma non comprare sui massimi o vendere sui minimi. Investiamo quindi a favore di trend prendendo delle posizioni difendibili. Esistono diverse scuole di pensiero per prendere delle decisioni di investimento. Alcuni trader si affidano all'analisi fondamentale ovvero allo studio degli eventi macro basato sui dati. Altri chiamati analisti tecnici invece preferiscono studiare l'andamento dei grafici andando alla ricerca di figure tecniche ricorrenti conosciuti come pattern di prezzo che portano le quotazioni a muoversi immediatamente in una certa direzione. I pattern di prezzo una volta completati possono indicare il livello di entrata, il target e l'eventuale livello dove inserire uno stop loss. Lo studio dell'analisi tecnica non è complesso ma quando si passa alla pratica alla ricerca del pattern di prezzo sui grafici le cose cambiano. Al supporto del trader esistono dei software di riconoscimento automatico delle figure tecniche che vanno alla ricerca dei migliori pattern attualmente realizzati sui mercati. Questi software consentono di ottimizzare i tempi infatti il risultato è una lista di mercati scansionati su diversi time frame che mostrano figure tecniche interessanti. IG mette a disposizione gratuitamente ai propri clienti uno strumento eccezionale integrato direttamente nella piattaforma di trading il Signal Center che aggrega i segnali di trading che è due tra le più importanti realtà del settore PFO e Trading Central elaborano seguendo i dettami dell'analisi tecnica. Gli esperti di Trading Central realizzano per IG anche delle idee di trading dedicate ai certificati Turbo24 vi lascio il link in descrizione per iscrivervi gratuitamente alla newsletter per ricevere segnali e qualche link per approfondire Turbo24 certificati a leva dinamica che permettono di operare a rischio limitato al rialzo o al ribasso su azioni, indici, valute, materie prime e ora anche criptovalute. Spero che questo video vi sia piaciuto fatecelo sapere nei commenti qui sotto e scriveteci anche quali sono le vostre strategie e le tecniche che adottate di più per entrare e uscire da una posizione. Alla prossima!